27 settembre del 1968 fu un giorno triste soprattutto per la sua fraternità per i frati cappuccini pensate un po il primo giorno senza padre pio cosa potesse significare padre pio era tutto in quel momento era tutto per i tanti devoti per i figli spirituali per la stessa fraternità di san giovanni rotondo che tra virgolette organizzava anche la sua vita attraverso i suoi orari era scandita ognuno aveva un incarico ecco in quel momento che cosa accadeva padre pio non c'era più però c'è gerardo leone che sulla rivista la casa sollievo della sofferenza padre pio è morto un'emblematica foto che raccoglie un po tutte le testimonianze tutti i racconti uno splendido lavoro stamane alle 5 la chiesa non si è aperta come quando c'era la messa di padre pio racconta gerardo leone però una piccola folla aveva atteso lì davanti perché come di consueto alle 5 del mattino padre pio celebrava quindi alle 5 del mattino ci si aspettava che almeno qualcuno celebrasse l'eucaristia forse i frati per rispetto quel momento quella messa non venne celebrata alle 5 del mattino la porta era chiusa e poi ancora dice una piccola folla però attendeva lì davanti e serrata contro il portale centrale recitava il santo rosario tra essa e tra tra questi c'era pietruccio pietruccio il cieco il cieco mercurio due fedelissimi della messa di padre pio e poi arrivò tanta altra gente il sagrato si riempì nell'arco di qualche minuto l'aria era fresca appoggiata alla facciata del convento e della chiesa al muro dell'orto c'erano ancora le tante corone funebri che erano state deposte il giorno prima sul sagrato il grande palco dove si era tenuto il il funerale quindi le diverse transenne ancora tutto come era prima come era la sera del giorno prima erano suonate da poco le 6 del mattino e la chiesa si apre i portoni si spalancano la piccola folla subito forse quasi per consuetudine come accadeva quando c'era padre pio si riversa immediatamente in chiesa pigiandosi l'uno con l'altro arrivando fino all'alta sotto l'altare maggiore e si riempie esce il celebrante e padre clemente da santa maria in punta altre messe poi sono uscite via via in breve hanno riempito tutti gli altari alla comunione la folla ha fatto ressa le balaustre padre clemente ne ha fatto più volte il giro distribuendo la comunione poi gli è venuto in aiuto un piccolo prete forestiero racconta gerardo leone dopo la messa la sagrestia si è riempita parecchie persone attorniavano il padre carmelo da san giovanni il galdo il quale dolente in viso appariva come soprattutto sopraffatto dal peso delle nuove responsabilità alle 10 la chiesa era ancora piena di gente alcuni carabinieri presiedevano le porte del della sagrestia nel pomeriggio poi un fatto importante alle 16 e 30 si apre la cripta di santa maria delle grazie e comincia da quel giorno il fiume i pellegrini che vanno ad affidare a padre pio tutti i loro timori rosso i loro le loro paure tutti i loro grazie per quello che aveva donato in vita a tante persone non solo di qui della puglia dell'italia ma di tutto il mondo